Ehi la ciurma, io sono Alessia Tess e ben ritrovati in questo episodio di Imperator Rome Allora, stiamo cercando di finire di fare un Carpet Siege sulla traccia Ma abbiamo delle troppe da questa parola, forse le si erano spostate Però allora, vediamo se riusciamo a prendere Quello Forte Così si spostano pian pianino Ahia Mi hanno pensato qua Allora Ah non volevo vedere lui, scusatemi Sono fermi loro No Stanno andando in là, quindi direi che Appena arrivano fate un Force of the March là Questi quando arriveranno? 10 novembre, ahia, non so se riesce a resistere così tanto Da tutta la gente che ho Una mandola, tanto ormai speso per speso Abbiamo vinto la sedia Bewe, ottimo Restate un attimo qua, allora No, vabbè Non so come andare qua tanto rompendo l'attrito, sono tutte le nostre zone Oh Stavamo vincendo ma abbiamo ancora più vinto, insomma Riuscite a fermarvi Riuscite a fermarvi? Qualcuno si fermi? No, quello è troppo tardi Gli altri? Neanche Vabbè Vabbè Allora i 14.000 muovetevi qua Dov'è la capitale di Europa? Qua è questo, è l'Isimacheia probabilmente Ma l'Isimacheia è la capitale da traccia Di tutta la traccia? Non mi lasceranno mai l'Isimacheia Non mi lasceranno mai l'Isimacheia Cioè posso prendere magari quest'altra zona qua Ma Ma Allora abbiamo preso un Fipolis intanto Quindi magari Allora L'Etholia abbiamo detto La Calcidice No L'Epiro non ci interessa La Macedunia è seconda Neanche è fondamentale Vogliamo la Tessalia però Questo si E Rodop Non ce l'abbiamo ancora Rodop Vabbè Voi muovetevi là Spero solo che non mi dichiadi Come è messa la Frigia intanto? No la Frigia è messa molto male Abbiamo degli altri amici di cui preoccuparci Cartagine Non ci vedono benissimo Quindi facciamo che Miglioriamo la nostra relazione con loro Eh? Qua possiamo espandere C'è un minimo da quello qua Colonize Sì possiamo colonizzare un po' Ah non vorrei toglierli da Carax però E qua li toglie comunque da Carax E spostiamo un cittadino qua dai Qua prendete meno attrito No perchè è sempre deserto Quindi Nulla Il deserto è davvero una roba penosa Da questo punto di vista Non riusciamo a colonizzare nessun altro No perchè abbiamo bisogno di Più gente Ma qua sono 8,1,9 Quindi appena riesci a farne un altro Possiamo colonizzare E qua sono 3,1,4 e 1,5 Beh dai Medri No c'è poca gente Medri Allora Ce la fate? Ok Maggia quanta gente mi ci sta morendo Maggia quanta gente mi ci sta morendo Uno dei due stia qua No No Vedete abbiamo scelto quello sbagliato Quello che non è più Cioè quello più scarso No Voi andate fin là Quasi prendono attrito o no? No Voi andate qua? No Tanto gli altri passano da sopra Non dovrebbe essere un problema Questo non sarebbe applicabile a marci forzate Oh Avanzamento di oratorio è buono No andate qua a sale Voi dopo le seguite A ruota È una guerra che si sta rivelando molto impegnativa Ma ormai Vada Vada Ci mancano ancora due anni Prima di poter Concludere Deve recuperare 9.000 uomini che ci sono morti nel mentre Qui cerchiamo di non prendere l'attrito se non il minimo indispensabile Cribbio che è che ci manca? Vada Non è ben più gente Per nulla proprio Ad Alessandria continuano a morire di fame Dottavo stratosso Ah è quello che si è spezzato di là Ma vabbè adesso aspettiamo per riportarlo in là C'era un armato da 15 Come possiamo farla diventare 18 effettivamente L'anissima Kay è un forte Per forza perché è la capitale Allora Allora dei barbari qua che stanno andando Là Allora devo cercare di gestire bene la situazione qua Perché comunque È vero che stanno finendo i soldi ma Cioè non li stanno poi veramente finendo Aspetta facciamo che no Si vada così allora questi spostatevi qua Ok non ce l'hanno neanche assediata Buono Questi come sono messi? Sono sempre più 003 Questi non so dove stanno andando Ma sono in guerra con qualcun altro? La latbicia non è uno dei nostri Ah perché sono alleati con tavolanti Qui ci sono anche i problemi là Tavolanti è come messa tra l'altro Sta perdendo di netto Aia allora Se la vinciamo Vada Gli altri li lascio andare là a catturare la loro capitale Sì l'abbiamo vinta nettamente Senza neanche troppi problemi Quelli che non si sono presi lo shock in faccia No aspetta voi potete anche fermarvi E in realtà niente Ormai Ci vanno addosso No ma non è troppo grave Voi avanzate E voi anche perché non si sa mai Ah no 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 Uè cosa state facendo qua voi? E cosa pensate di essere a casa vostra? Adesso poi faremo dei forti per gestire meglio qua la situazione Ma in questo momento Quei nove che vanno a spasso non mi piacciono per nulla Quest'isola L'isola di Samotraccia mi interesserebbe prenderla Ho le nostre navi in questo momento dove sono? Sono qua allora Andiamo qua e facciamo uno sbarco in Samotraccia A parte che non è necessario Se sei dentro la provincia se ci danno la provincia Ma non voglio la provincia in realtà Voglio solo lo stretto di terra che arrivi fin là Dalla pace Perché Non so se mi darebbero anche Tutta la Nole Piro Nole Piro Come chiamo questa zona? È là? Rodope An esposito dal capitale Plotinopoulos? Sì! Che pezzenti! LOL Potere oratorio che è meglio in questo momento che non è Aia! Non possiamo cambiare No Mi sa che ci scasseranno le navi allora in questo momento Ho detto che se escono Ci pigliano Ma è entrata davvero Quelli stanno andando ancora in giù Dove vogliono andare? No, le navi in realtà si sono spostate in là No! Se mi pinza non sono nei guai Ma dove... dove stanno viaggiando? Un po' Quello è 0% Chi è che ha occupato tutta sta roba? Hemimontus Che sono questi? Non si può neanche che esistessero Allora, adesso Ci darebbero... Rodos Rodope, scusami Ma... Plotinopoulos... Ah no, è quasi occupata Chi... Chi l'ha presa, scusatemi? Altra gente? Chi è che ha Plotinopoulos? Hemimontus Ma... Ok, non possiamo prenderla? Oh, vabbè Dove stanno andando? Lo stanno andando qua... Ma perché poi proprio là sotto? C'è un call for peace Tanto breve dovremmo riuscire a prendere la loro capitale E speriamo che ci diano tutto quello Intanto vediamo se... Allora vorrei anche Abdera Sale Anos Abbiamo vinto la sedia dell'esima Keia Siamo tracciando... Mi sa che non riusciamo a prenderla in questo... Guerra Sì, io chiederei tutta questa roba qua Vero che prendiamo 24 di Aggressive Expansion Ma... Così otteniamo entrambe le città che ci servono per il discorso di... Alessandro Magno Hmm... Non so se prendere anche queste 3 ore che ci siamo In modo da avere una presenza più sicura qua Sì, facciamo così Così le loro navi dovranno spostarsi ulteriormente Sono forti, sono forti ma li prenderemo Sono dei ribelli di un nord emigrante Cosa sto dicendo? Perdiamo ancora popolarità Era meglio non perdonare in questo caso Dove sono andate le navi? Sono andate ancora più in là Allora facciamo che... Uscire con le nostre E spostare queste truppe in samo traccia E' finita la guardia civile di Frigia? Eh, potrebbe essere un problema adesso la Frigia Potrebbe diventare più problematica Oh, vediamo un attimo la Frigia Vabbè... Non è poi così espansa la Frigia Perchè questi prendono l'attrito qua? Perchè è deserto, va? Porca miseria, saperlo prima E avrei tenuto da un'altra parte È vero che sono mercenari ma mi fanno spendere dei soldi inutilmente Cosa fate voi? Li state imbarcando? No, vanno prima là Ah no, si stanno imbarcando Ok, sbarcate Che poi la War Exhaustion è terribile Sta salendo decisamente Dove la vedo la War Exhaustion? Qua sotto la religiosa? Si, aumenta leggermente La resta ma Nulla di grave, dai Allora andremo a concludere questo episodio con la Conquista Di tutta quella zona della traccia Dopo aver speso 100 Mila in Manpower Prendiamo anche Questa L'isola di Samotraccia La Frigia si ritroverà La traccia si ritroverà con questo, questo 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 Pezzone enorme E questi due Tutti separati Noi prenderemo parecchia War Exhaustion Cioè parecchia Aggressive Expansion Da tutto ciò ma Ci può stare Ci date anche dei soldi per caso Vada Ci sta No Ci sta Rilasci qualcosa No Questo Non possiamo farlo Costa davvero troppo Vada L'isola L'isola di Samotraccia Guadagnare le 10 Non è male Ok Ok E questo è il nostro Egitto Al 588 A Durbekond Ciao a tutti Buona giornata inmigna Grazie per la visione!